International Fashion Network introduces Sono con Silvia di De Manumea. Ciao Silvia, benvenuta. Grazie mille. Sono rimasta colpita da queste borse bellissime che immagino siano lavorate tutte a mano. Sono tutte lavorate a mano da artisti nazionali e internazionali che sulla pelle realizzano le proprie opere d'arte. Allora, dove producete? Produciamo nel centro Italia, tra le Marche e le Abruzzo, per un real handmade in Italy. Sei molto giovane. Il tuo brand da quanto tempo esiste? Esiste da due anni, da quattro stagioni. Ah, ok. Quindi già un bel po', devo dire. Fai parte di Showcase, quindi questo progetto molto bello di Alta Roma che cerca di aprire un po' le porte all'internazionalità. Cosa ne pensi? È un progetto molto molto bello e sono onorata di questa selezione e credo che aiuti noi giovani designer a essere un punto di vista nel mondo. C'è qualcosa in particolare che vuoi aggiungere sulla tua collezione? Sì, voglio aggiungere che questo progetto è nato per unire l'arte alla moda e mi fa molto piacere che la moda esca al di fuori, quindi per le strade e non più all'interno in un circuito chiuso. Mi sembra una cosa molto bella. Noi ti auguriamo il meglio, Silvia, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille, grazie.